Emanuele, come ti senti? Bene, bene. Un po' sonno, però bene. Allora, come vanno le tue preparazioni per questa competizione? Molto bene. Sono contento di stamattina. Ho avuto delle belle sensazioni fisiche. Domani penso di poter fare una grande semifinale. Che cosa vuole di questi campionati? Qual è il tuo goal? L'obiettivo è la finale. Quindi gli ostacoli, una volta che sei in finale, può succedere di tutto. Quindi, la finale è l'obiettivo, poi vediamo. Grazie. Grazie a voi, ciao.